e poi sto riguardando serie tv vecchie tipo big band di ori però è diverso è qualcosa che è uscito nuovo, non sto guardando nulla partiamo da Loki ciao grazie di essere qui qui e qui 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 con me oggi oggi sono carichissima 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 perchè c'è un nuovo arrivato in famiglia e in questo bellissimo meraviglioso microfono che si chiama Zuma 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 vi metto un po' di crema perchè le mani secchissime mi metto un casino mi piace troppo il suono questo crema è buonissimo e questo video ha lo scopo di testare questo nuovo microfono in realtà in realtà questo non verrà quasi mai usato come microfono in questo modo perchè è abbastanza sprecato devo dire scusate la ami ma verrà usato come nuovo registratore che è quindi al posto di dello Zuma H5 questo qui che ormai ha un po' di anni un bel po' di anni tecnicamente appunto questo microfono dovrebbe questo registratore dovrebbe rendere migliore anche la qualità dei microfoni che si attaccano qui ad esempio i Rode o i microfonini quelli che si attaccano qui quindi insomma vedremo inoltre l'ho preso anche per le mie live su Twitch perchè dovrei dovrei imparare a scaricare degli effetti e poi potrei anche aggiungere degli effetti così quindi va anche un po' da mixer e in ogni caso non so quando uscirà questo video io penso lunedì prossimo oggi è mercoledì domani parto e torno domenica e penso appunto sarà il video che uscirà lunedì l'ho preso come prima questo in onore del quasi non me la voglio tirare milione e perchè sento un po' la responsabilità e il l'obbligo morale ma mi fa molto piacere anzi farlo di dover migliorare la qualità sempre di più e quindi volevo appunto migliorare la qualità sia audio che anche l'anno prossimo farà anche un buon acquisto video lo faccio l'anno prossimo per motivi personali in ogni caso ho dato occhiato cosa voglio e voglio in generale fare un upgrade anche questo sfondo spero se ne andrà presto per avere uno sfondo un pochino migliore e che ora come ora sono siamo un po' messi così siamo un po' incasinati e e e poi per l'estate direi che va bene sapete che estate escono sempre video un po' più tranquilli e questo è uno di quelli proprio un test del microfono però da quello che sento ha praticamente zero veloce di sottofondo è un qualcosa di pazzesco ho visto che in Italia l'ha preso un po' di mesi fa Debe smr e c'era la qualità mi sembrava pazzesca però ripeto io non lo uso come microfono in sé perchè per quanto sia buona qualità io preferisco altri microfoni per il mio canale di solito e non so se riusciate ad apprezzare guardate quanto è bello e enorme qui ha un monitor e questa è la funzione di registrazione base e qui ha 1,2,3,4,5,6 entrate in realtà in tutto dovrebbe avere massimo 12 entrate questa è una cosa utile anche ad esempio ai musicisti che devono registrare più strumenti su uno stesso registratore ma a me serve principalmente per attaccare due microfoni però magari qualche volta avremmo degli esperimenti con più microfoni attaccati e già che c'ero già che faccio un video chiacchierizzo volevo anche parlarvi delle serie tv che sto guardando ho guardato visto che nei commenti nei direct nelle live mi viene chiesto spesso se farò ancora dei video in cui mangio io onestamente io tendo ora come ora dire di no perché non non mi piacciono più non mi piace ditarli non mi piace farli mi mi stressa trovare un orario in cui non ci sia casino ma io abbia fame e un po' non mi piace mi è sempre molto pesato fare questi video ma adesso ho deciso che basta perché non andavano neanche più tanto bene sul canale inoltre mi do proprio fastidio quando mangio quindi riascoltarmi è una tortura e però in questi video parlavo delle serie tv del momento quindi penso ne parlerò lo stesso approfitterò di questo video per parlarne intanto però voglio fare del tapping qualcosa iniziamo il gelattino dai in realtà non sto guardando molte serie tv se avete dei suggerimenti scrivetemelo qui nei commenti non ho una richiesta particolare per delle serie tv però ultimamente quasi tutte tendono a non piacermi ho provato a cominciarne alcune ma proprio non mi prendono quindi un po' non lo so le tre che ho guardato in questo periodo sono Lucifer due su Netflix e una su Disney Plus sono Lucifer Elite e l'Occhio dico che c'è l'unica che per cui impazzesco ovviamente è Lucifer e l'Occhio manco a dirlo proprio proprio e vabbè poi sto riguardando serie tv vecchie tipo Big Bang Theory però è diverso intendo qualcosa che è uscito nuovo non sto guardando nulla partiamo partiamo da Loki allora Loki è su Disney Plus e per chi non lo sapesse cosa sia è una serie tv su un personaggio della Marvel Loki è il fratello di Thor il dio dell'inganno avete presente il film Thor della Marvel il fratello di Thor è Loki che ne metto un'immagine qui interpretato da un attore che rende mi piace tantissimo come personaggio perché proprio è super bravo a interpretarlo non lo so infatti Loki è uno dei cattivi della Marvel è il cattivo della Marvel in realtà più amato e appunto l'attore su me è bravissimo praticamente questa serie tv parla dell'avventura di Loki si ambienta penso dopo tutto l'universo Marvel e cioè come è in linea temporale anche se fa molto ridere questa cosa in linea temporale perché vabbè chi l'ha vista chi sta vedendo la serie capirà e non so cosa dire per non fare spoiler fondamentalmente la serie inizia come dire praticamente Loki ha dei poteri per cui può anche spostarsi diciamo da un posto all'altro e fucce e va in un'epoca in cui non è previsto che vada e quindi fondamentalmente arrivano dei poliziotti del tempo degli agenti del tempo ad arrestarlo basta dico solo questo proprio all'inizio questo e c'è lui che vive un'avventura in questa cosa ed è molto carina è un peccato perché gli episodi non sono lunghissimi durano circa 30-35 minuti però è fatta molto bene mi piace molto e a me l'universo Marvel piace molto un po' trash ma mi piace tanto e questa è la prima serie tv cioè guardatela nel senso se vi piace anche l'universo Marvel così e non l'avete ancora guardata andatela a vedere perché secondo me è fatta molto bene molto carina e approfondisce bene il personaggio è molto bella la seconda serie tv che ho guardato ho finito ma in realtà erano poche puntate ma che mi sono pesate tantissimo è Lucifer Lucifer è una serie tv che si trova su Netflix e le prime stagioni sono veramente molto molto belle è diciamo un poliziesco cioè una di quelle serie sapete ci sono quelle serie in cui che ne so a ogni episodio c'è un caso giuridico quello a ogni episodio c'è un caso di investigazione che si risolve nella puntata ma non è incentrato su quello assolutamente Lucifer parla di Lucifero il diavolo che è venuto a Los Angeles ai tempi nostri per divertirsi a una discoteca e se la gode e poi per vari ma questo non è uno spoiler è veramente succedere le prime puntate per varie vicende finisce come per lavorare come aiutante della polizia delle lepidi quindi dopo io penso sia Los Angeles Buries Department non lo so non ne ho idea e fino alla quarta stagione in realtà è molto bello questa quinta la la prima parte è uscita penso nella prima parte cioè nell'ultima parte del 2020 e la seconda parte è uscita sarà uscita ad aprile maggio non saprei quindi hanno diviso la quinta stagione in penso otto episodi otto episodi se non sbaglio la prima parte non mi è dispiaciata neanche così tanto ma la seconda parte l'ho trovata e non so su Instagram ne ho parlato in me avete confermato il mio pensiero o almeno in molti la seconda parte l'ho trovata proprio fatta giusto per farla già che fosse presente l'episodio musical io odio quegli episodi delle serie tv li trovo assolutamente insensati a meno che non sia tutto musical tipo Glee e non non mi è piaciuta fondamentalmente la tirano avanti fino alle ultime due puntate che sono belle però ho fatto ciò ciò mi sono andato un mese a finire quelle otto puntate perché mi annoiavano tantissimo non ne trovavo il senso non avevano uno scopo invece le ultime due puntate sono molto belle diciamo che è una bella serie tv in generale quindi ne vale la pena la quinta stagione mi ha deluso un pochino ma c'è proprio il procedere della quinta stagione perché trovo che una serie tv già comunque deve essere bella ogni puntata non le ultime due e il resto si ha giusto per far numero però è come quando in game of thrones c'era tutta la puntata che non succedeva un cavolo e poi gli ultimi due minuti in cui succedeva tutto non ha senso cavolo e quindi sì questo è tanto terza serie tv anche questa penso fosse la terza stagione che ho guardato è Elite in realtà Elite in realtà Elite l'ho guardata cioè a me la prima stagione l'ha piaciuta la seconda stagione meh nih si scusate forse questa era la quarta stagione diciamo che anche la terza ma non è che mi sia dispiaciuta neanche questa quarta cioè è carina semplicemente la prima stagione era molto molto più bella delle altre penso però comunque è guardabile e parla di questo gruppo di ragazzi che vive penso Madrid che va in questa scuola privata super ricca e tipo all'inizio proprio della serie tv 3 non mi ricordo comunque è fondamentalmente va a fuoco mi ricordo una scuola pubblica e queste persone vengono smistate della scuola pubblica vengono smistate in diverse scuole fra cui tipo 3-4 ragazzi vanno in questa scuola privata attraverso una borsa di studio e quindi si confrontano con questi invece figli di papà eccetera nella terza stagione e non è uno spoiler e questo succede molto nelle serie tv che si ambientano durante la high school e le superiori ovviamente a un certo punto la gente va all'università e nella quarta social hanno appunto inserito molti personaggi perché molti personaggi si sono staccati andando all'università e quindi non potevano più essere nella trama principale e non mi sono dispiaciuti i nuovi personaggi il punto qual'è? ci sta che ci siano intrighi e storie e tradimenti e flirt eccetera eccetera come succede anche un po' più o meno alle superiori se ci può stare perché a quell'età hai l'ormone a palle quindi ok però sti qua veramente non si sa controllare cioè la quarta storia non è? è un delirio e l'ho trovata già non voglio risultare il mio pacchettone però l'ho trovata veramente un po' esagerata un po' forzata e tutti vanno con tutti non ce n'è uno che non abbia problemi troppo portata ma al limite troppo e sì guarda che mi fa sempre ridere in queste serie tv che ce ne sono altre di questo tipo eh però in queste serie tv che la gente fa tipo in queste scuole private in cui c'è la divisa però c'è va con la divisa che non so la camicia con noto sotto al seno con la minicon raso cioè ok il senso della divisa qual è? ma in generale cioè non ho mai visto nessuno andare a scuola così tra loro tra loro si con i tacchi le borse firmate niente zaino ma dove? quindi quella che mi ha deluso di più è il lucifer elite io l'ho guardata ho fatto praticamente una maratona di elite ho guardata in due notti due notti per la citazione del matrimonio che mi segue su instagram lo sopra e proprio ho passato ma tipo molte notti circa due settimane prima del matrimonio in cui proprio mi svegliava a luna non avevo più sonno mi ha detto una maratona alle sette molto bene e quindi ho guardato questa serie tv ehm di altre non lo so io ho visto molte serie tv famose vi dico alcune che mi sono piaciute tantissimo ma anche che ho visto anni fa mi piacciono tantissimo quelle ambientate nelle prigioni tipo aralistaino black vis a vis bellissima ehm prison break devo dire che prima stagione carina tutte le altre un po' portate troppo avanti cioè un po' esagerate dopo un po' già scocciato però l'abbiamo invito di guardare però non capisco tutto questo entusiasmo per la serie cioè per l'intera serie prime stagioni vabbè però dopo mi piacciono molto quelli ehm regali non The Crown The Crown l'ho visto ma ho fatto un po' fatica però tipo Versailles tipo c'era una serie che si chiama The Royals bellissima ehm come si chiama quella su Maria Stewart Rain bellissima queste cose che mi piacciono tanto e poi ovviamente tutte quelle storie che c'è Stranger Things casa di carta trono di spade tutte queste qui ovviamente le ho guardate e ho provato a guardare anche Anne Whitney non so come si dice Anne con I Anne con la Anne con la I vabbè comunque quella lì forse non è il mio genere non so mi dispiace perché a me piace avere una serie tv proprio anche di 20 minuti da guardare ogni giorno di 20 minuti guardi le tue serie tv dopo pranzo e proprio una puntatina al giorno invece non non lo so non 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 trovo nulla soddisfi che soddisfi le mie esigenze in compenso sto scoprendo tutta tutto l'universo Marvel tutto l'universo anche non so come si chiamino però tipo Spiderman Batman ho visto i primi due Batman ehm tutte quelle cose qui io le scopro ora però meglio tardi che mai e e e nulla alla fine si sono contenta aver stato il gelatino dai che non so da tanto ditemi nei commenti se siete arrivati fin qui commentate con le emoji del gelatino e poi ditemi sia consigliate i miei serie tv ma vi prego non adolescenziali non sono più un'adolescente purtroppo infatti per fortuna però tipo cos'era una che mi consigliano spesso uguali di lupi mannari no ragazzi sono troppo grande per vederla tipo mi piace tanto anche Umbrella Academy soprattutto le prime due stagioni eh non lo so io tendo un po' a noiarmi quelle serie tv le cose non mi prendono tanto quindi vedremo insomma consigliatemi che io ci provo e che sto dicendo ah consigliatemi anche nei commenti se volete diciamo video da fare per agosto io ad agosto non vorrei rallentare vorrei sempre portarvi due da settimana ma penso spero saremo in viaggio di nozze quasi tutto agosto quindi mi devo mettere molto avanti e registrare praticamente otto video ovviamente i corti saranno 12-13 minuti massimo 15 minuti però non vorrei lasciare il canale vuoto quindi se avete suggerimenti per video io ne so anche un inaudible poi un video dedicato a un certo trigger ditemelo pure e io magari non so mi piace l'idea sto provando anche aggiornare spotify arriverà prestissimo ve lo giuro che dopo sono tutti vacanza e spotify è molto utile quindi prometto ci lavoro ci lavoro ci lavoro ci lavoro ci lavoro è nulla io vi ringrazio per avermi ascoltato siete arrivati anche fin qui e spero che questo video vi piaccia tanto mi piace da matti mi dispiace su tutti i momenti video sono molto chiacchiericci mi dispiace un casino non lo so sono chiacchierano attivamente prometto che cercherò di variarli e che d'estate un po' io mi perdo perdo un po' anche la creatività per i video d'estate ce l'ho avuto un po' a giugno poi dopo il matrimonio sono un po' andata mentalmente quindi penso che i video belli cioè proprio strutturati originali eccetera torneranno a settembre intanto l'accompagnia di stare così ah io penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio si è giunta l'ora a passare le luci e augurarvi augurarti augurare a te una buona 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 buonanotte 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 Buenas noches tu lo sui Buon nuit Buon nuit Vete Gute night Gute night Le canoche Le canoche Le canoche Buonanotte Pasticini Un bacio Un bacione Un bacione Un bacione Calisper Un bacione Un bacione Un bacione